Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torna dopo un mesetto, neanche uno spacchettamento, come direbbe il mio amico Nino. Oggi non faccio ne Mino, che sarebbe la parodia fatta male di Nino, non faccio neanche The Frostman, che sarebbe quello di Deglio, e neanche Fuori Mona TV, che sarebbe Roberto. Perché ogni tanto è giusto anche che la faccia seriamente, contendo che in futuro ci saranno grandi occasioni per fare spacchettamenti, quindi magari mi destreggeremo nelle mie abilità imitative nulle. Detto questo, vi mando la sigla, quando mi sto grattando, perchè è appunto una zanzara, quindi soffrite com'è, guardate che roba, e poi spacchettiamo insieme. Allora, questo è il pacco, è un pacco, e so già cosa ci sarà dentro, perchè non ci sia sorpresa, perchè me la sono pagata, quindi grazie al cavolo che lo so, e ovviamente è praticamente la chiusura naturale di un percorso che, come tradizione, per quanto mi riguarda, andava fatto. Quindi è un acquisto che avevo già programmato, armi e furono, dall'inizio di stagione, insomma, prevedendo certe dinamiche. Ok, vado ad aggiungere che questa maglia qua, così come tutte le altre, la trovate su Calcio a basso costo, che è appunto il sito, oh, ma questo è il battone qua, intermenta, che è il sito col quale ho taglato una partnership, così io, come anche Nino, appunto, Roberto, Foglio GTV, Delio, Dani, Paolo Giallorosso, Peppone, vabbè, praticamente il mezzo di YouTube è monopolizzato, è una specie di multinazionale, e poi, ormai, e quindi, vi invito qui sotto, a cliccare sul link che trovate in descrizione, usare il codice scontro nei prodotti che preferite, e i prodotti sono già di basso valore, li prezzo, chiaramente, ma di alto valore a livello di qualità, posso confermarlo io, così come avete visto nelle altre maglie che ho comprato, e possono confermarvelo anche gli altri, quindi, veramente, sono repliche autorizzate, pertanto, la qualità è molto alta, è tutto molto bello, e soprattutto, si paga un po' meno rispetto a quelle che sono le, i prezzi che girano ultimamente. Allora, ecco qua, è stato, per me è molto emozionante aprirla, e vederla, poi la faccio vedere perché, perché ha un significato molto profondo e alto, per me. Signori, questa è la maglia che io mi ero, avevo previsto di prendere già inizio campionato, perché già sapevo che alla fine dell'anno sarebbe andato a finire in un certo modo. Ho fatto una scelta, nel senso che questa scelta la capirete, e mi dispiace non aver fatto la scelta di comprare di più, o comunque sfruttare i privilegi da partner, per comprare anche le maglie di altri giocatori che hanno la scelta Juventus. Probabilmente ho fatto le scelte, perché il budget è pur sempre quello, e perché chiaramente c'è qualcuno più importante di altri. Io farei partire da dietro. Numero uno, Gigi Buffon. Inizialmente Gigi Buffon, la maglia di Buffon. Perché? Perché, signori, io ho la mania, ho la fissa, che ad ogni fine carriera, dico, fine carriera comunque, lascio la Juventus, vado a prendere la maglia, mai durante, cioè tipo non prenderei mai la maglia di Chiellini adesso, perché so che Chiellini rimarrà altri due anni, quindi la prenderò fra due anni. Gli altri due nomi, di cui ho menzionato prima, sarebbe stato Licksteiner e Samoa, che non ho preso perché ovviamente sarebbero stati anche soldi, cioè insomma. E l'altra maglia che ho invece è quella di Del Piero, che presi tramite Tutto Sport, che faceva la promozione a tempo dopo l'abilità del primo scudetto, che appunto coincise con il ritiro dalla Juventus, comunque l'abbandonato di Del Piero, toccatore al quale era molto affezionato, e appunto comprare la maglia. Adesso si è ritrovato Buffon, e quindi è toccato Buffon. Numero uno, Buffon, davanti abbiamo tutto, tanto qua Adidas, appunto perché sono repliche autorizzate, ho scelto di metterci chiaramente Coppitalia, lo stem dello scudetto, Adidas, qua è tutto cucito, non sono placche, Juventus, il Jeep, poi qua Adizero, qua c'è dietro il Sea Games, che è lo sponsor, insomma, praticamente la maglia completa, senza praticamente le toppe della Champions, così via che non le ho messo, altrimenti poi diventava più una, come quella di soldati veterani. E niente questa ragazzi, non me la metto perché ho giacallo di mio, mettermi anche un'altra maglia sopra, vuol dire colare, quindi, però ovviamente le maglie sono tutte le altre taglie, e quelle ho presse altre volte, quindi, la modella è quella Adidas, e quindi la L, come sempre, e le mette, tutta la mia puntura qua sta diventando enorme, cioè guardate. E da questo, quindi ricapitolando, maglia di Buffon, perché per quello che è rappresentato per me, l'ho detto anche in altri video, quindi non credo che sia giusto ripetersi, su calcio, maglie calcio a basso costo, trovate in descrizione appunto, il link che vi rimanda al sito, e potete utilizzare il mio codice di sconto, che mi pare a Marchesi BN, non vorrei sbagliarmi, ma comunque c'è scritto, quindi copiate e incollate, e niente, fate i vostri acquisti, adesso vi consiglio, chiaramente, a breve dovrebbero uscire, se non saranno uscite, le maglie della nuova stagione, vi consiglio di aspettare un pochino, vedere le nuove, l'ufficialità di nuove maglie, il secondo e l'altra maglia, e acquistarle con calma, vedendo anche poi i giocatori, quindi non fate acquisti affrettati, nel caso vogliate fare invece, acquisti di maglie nazionali, perché sono giocatori mondiali, o di maglie vecchie dell'anno passato, per un discorso di affetto, perché sono molto belle, quello scorso l'anno, bisogna dirlo, sia la prima, che quella del portiere nera, questa qua, che potute, allora fatelo subito, però vi consiglio sempre di dare, vi consiglio di acquistarmi, consiglio anche con testa, sfruttando quello che saranno, i momenti delle nuove acquisizioni, come maglie, le nuove maglie che arriveranno, e di quelle passate, e vedere cosa è rimasto, quindi fate la vostra scelta, e usate così il sconto, così preoccupate un po' di sconti, magari voi e i vostri amici, potete veramente scontare, due o tre pezzi in più, comprati insieme, scontando il totale, e tutto questo, forza Juve, come sempre, nella prossima, maglia perfetta, grazie a Egidio, di Calcio Basso Agosto, ciao! Paura, 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 Grazie a tutti.